Se questo in un paese normale, in uno stato di diritto è consentito, vuol dire che veramente queste persone non hanno la minima dignità. Un sottotetto trasformato in abitazione lo scorso novembre aveva fatto balzare agli onori delle cronache nazionali il comune di Quarto, sollevando un grosso polverone sul sindaco, allora pentastellato, Rosa Capuzzo, rea, di abitare in una costruzione abusiva. Oggi la vicenda torna ad essere attuale dopo che il proprietario del sottotetto, Ignazio Baiano, coniuge del primo cittadino, ha presentato ricorso al TAR contro il comune amministrato dalla moglie. Si appalesa un'altra volta e in maniera evidente il conflitto di interessi che noi abbiamo da sempre denunciato e oggi il sindaco da un lato deve far rispettare il suo provvedimento di demolizione della manzarda, dall'altro dovrebbe, come dire, in qualche modo evitare di ritrovarsi senza un'abitazione. Siamo veramente ai minimi storici di moralità, di contegno e di dignità. Lo scorso 24 febbraio il comune ha infatti rigettato la domanda di sanatoria dell'abuso edilizio. Si potrebbe presumere per le ragioni rese note mesi fa. In sostanza quello che veniva sostenuto nel plico anonimo che diede il via ad una bagarre mediatica senza precedenti per il comune Flegreo era che l'abuso non sarebbe sanabile perché compiuto successivamente alla data di richiesta del condono. Non avendo fatto ricorso contro il rigetto di condono, il coniuge del sindaco si è visto per venire a casa l'ordinanza di demolizione datata 29 marzo. Una vicenda quantomeno ambigua che vede Rosa Capozzo nella doppia veste di accusatore e accusato. In quel sottotetto infatti il sindaco di quarto ci vive da anni insieme alla sua famiglia. Dunque è la sua stessa casa che sta chiedendo di abbattere, dando incarico ad un legale di difendere l'ente contro il ricorso presentato dal marito davanti al tribunale amministrativo. La gestione di questa amministrazione è tutto incentrato sulla parentela, da quella all'interno del Consiglio Comunale a quello relativo alla gestione del territorio. Il comune, in persona del sindaco, non fa altro che anteporre gli interessi personali al benessere collettivo completamente dimenticato. È venuto il momento che la popolazione mandi a casa questo sindaco. In questa nuova bagarre il sindaco Capozzo preferisce per il momento non commentare.